ciao a tutti benvenuti su questo nuovo tutorial della serie presonus studio one io sono marco chiavetta dal jgr studio e oggi parleremo delle funzionalità della transport bar della nostra da w la prima icona che troviamo a partire dalla sinistra della transport bar sarà l'icona delle funzionalità midi l'icona si riconosce dalla scritta midi in basso ed è divisa in tre sotto icone due freccette e il logo di un connettore midi in realtà le funzionalità che troveremo sotto questa icona saranno due dunque abbiamo due freccette che sono gli indicatori di ingresso e di uscita del segnale midi questi indicatori ci danno la possibilità di controllare all'origine la comunicazione tra studio one e nostri devices esterni e viceversa molto utile per monitorare eventuali problemi di comunicazione all'origine evitando così di perdere tempo in settaggi che non sono utili alla causa andiamo ora a vedere il comportamento di questi indicatori nella ricezione di un segnale midi noterete che la freccetta a sinistra si accenderà indicando che il segnale è stato correttamente elaborato cliccando sull'icona centrale raffigurante un connettore midi si aprirà il menu midi monitor questa schermata ci permette di monitorare tutti i segnali midi in ingresso e in uscita ruotando una knob di machine native instrument possiamo vedere come questo midi monitor ci mostra tutti i messaggi midi in ricezione da studio one quello che vedete infatti è l'elenco completo in alto abbiamo la possibilità di filtrare i messaggi spuntando le caselle a fianco alle varie voci abbiamo la possibilità di eliminare una certa tipologia dei messaggi percepiti da questo monitoring filtrando i messaggi in ingresso infatti pur potendo utilizzare i nostri dispositivi midi in maniera efficiente come si vede dalla traccia a sinistra non visualizzeremo messaggi all'interno del midi monitor continuando a utilizzare i pad come si vede dall'indicatore di ricezione midi a sinistra andiamo a togliere la spunta della filtro ricezione possiamo vedere i messaggi apparire nuovamente in basso col pulsante clear potremo pulire il nostro log col pulsante reconnect potremo ovviare a problemi di connessione con devices midi andando avanti troviamo il monitor performance cliccandoci sopra si aprirà il nostro menu di monitor performance dove potremo controllare l'utilizzo della nostra cpu dei nostri dischi e della nostra cache cliccando su show devices avremo la possibilità di controllare l'utilizzo delle risorse del nostro computer per ogni singolo device utilizzato come ad esempio plugin e virtual instruments sotto la voce cpu possiamo individuare i plugin che creano problemi di sovrautilizzo della cpu abbiamo anche un piccolo monitor di latenza impostazione immediatamente successiva è quella che ci mostra la sempre rate del nostro progetto è un piccolo monitor in basso che ci mostra la latenza dei plugin utilizzati cliccando sulla sempre rate abbiamo la possibilità di aprire il menu della song setup dove possiamo modificare le impostazioni del nostro progetto il monitor successivo ci dà la possibilità di tenere sotto controllo il tempo di archiviazione rimanente collegato alle impostazioni del progetto che abbiamo aperto molto utile per chi utilizza dispositivi portatili con poco spazio di archiviazione e ha bisogno di tenere sotto controllo perché vincolato alle performance del proprio dispositivo i successivi due monitor ci mostra la nostra posizione all'interno del workflow facendo riferimento alla barra di riproduzione che vedete a sinistra possono essere impostati indipendentemente l'uno all'altro per monitorare diverse unità di misura possiamo modificare la posizione della time bar direttamente dal monitor che si muoverà ovviamente in relazione all'unità di misura impostata le unità di misura impostabili sono battute secondi samples e frames impostare due valori differenti sui due monitor è molto utile per chi ad esempio scrive musica per cinema e ha bisogno di controllare la posizione temporale nel progetto e la posizione musicale nel progetto come già vi ho mostrato modificando i valori sul monitor andiamo a spostare la posizione della nostra time bar sul workflow e viceversa modificando la posizione della time bar sul workflow andremo a modificare i valori di riferimento mostrati sui monitor abbiamo appena finito la sezione di monitoring e possiamo passare alla sezione di controllo che è presente in tutta la di aw andiamo a vedere le funzioni principali centrale evidenziato in blu abbiamo la funzione di stop serve appunto per fermare la nostra time bar del nostro registrazione e cliccando due volte riporta la nostra time bar all'inizio del progetto subito dopo abbiamo il play che serve appunto per riprodurre è il record che serve appunto per registrare le doppie frecce ci permettono di velocizzare uno spostamento lineare all'interno del workflow la differenza tra le doppie frecce e le frecce singole è dettata dall'unità di riferimento dello spostamento le frecce singole infatti ci permettono di muoverci in maniera lineare tra i vari markers studio one è impostato per creare due markers all'inizio di ogni progetto un marker di start e un marker di end dando però la possibilità di inserire altri markers all'interno del piano di lavoro cliccando su una battuta e premendo y possiamo inserire un nuovo marker da questo marker 6 possiamo muoverci in maniera lineare utilizzando le freccette singole tornando infatti indietro con la freccetta di sinistra potremmo muoversi al marker 5 4 3 e viceversa con la freccetta di destra abbiamo anche la possibilità di muoversi tra i markers con diversi short cut in maniera non lineare utilizzando il comando shift più il numero del marker relativo sul tabellino numerico come mostrato dalla tastiera virtuale sullo schermo un altro short cut che sostituisce le freccette singole è shift con l'aggiunta dei pulsanti n o b che sostituiscono le due freccette come potete vedere al monitor ultima icona di questa porzione della nostra transport bar è il loop il loop è una porzione del vostro arrangiamento che si trova tra due locatori che se attivato viene evidenziata in studio one dal colore blu nella parte alta dello schermo l'effetto sarà una riproduzione costante e continua nella porzione di arrangiamento selezionato e influirà anche sulle registrazioni ecco la colorazione in alto andiamo ora a ridurre la porzione selezionata a una battuta per farvi vedere l'effetto del loop noterete che battuta 15 sarà ripetuta innumerevoli volte come prevedibile subito dopo l'icona di loop troveremo l'impostazione locatori i locatori possono essere modificati nella loro posizione tramite un click and drag nella porzione alta del workflow o in basso nel monitor dei locatori che possiamo vedere evidenziato cliccando nel monitor in alto modificheremo la posizione del locatore di sinistra e viceversa modificando il valore del monitor in basso modificheremo la posizione del monitor di destra riportiamo per comodità ora le impostazioni a 15 19 subito dopo troviamo due opzioni veramente importanti la prima in alto è un record mode replace ed è collegata direttamente all'opzione di loop questa modalità ci permette qualora selezionata di sovrascrivere l'intera porzione di loop nel momento in cui attiviamo la modalità di recording nessun effetto avrà questa opzione se selezionata mentre il loop è disattivato come in questo momento mentre selezionando il loop e riutilizzando la sessione di replay possiamo vedere che tutto il loop viene sovrascritto clicchiamo ad esempio su barra 16 ed andiamo a registrare un piccolo pattern noteremo che si è formato una nuova porzione midi che può essere copiata nelle tracce sottostanti e se cancellata crea un vuoto chiarendo che c'è stata una sovrascrizione definitiva di quella porzione tramite la chiave inglese possiamo aprire il record panel e da qui selezionare diverse opzioni che vedremo in un secondo tutorial icone fondamentali sono quelle del pre roll e dell'auto punch due opzioni veramente utili all'interno di studio one vi aiuteranno molto in fase di registrazione soprattutto se state registrando del materiale particolarmente complesso gli shortcut di selezione di queste due opzioni sono per il pre roll o per l'auto punch e le icone verranno colorate in rosso quando selezionate il pre roll è molto utile se avete la necessità di registrare da una data battuta andiamo ad utilizzare la traccia audio per mostrarvi come utilizzare questa opzione posizionandoci sulla battuta dalla quale abbiamo necessità di iniziare registrazione il pre roll ci fornirà automaticamente una volta inserita la recording mode una battuta a vuoto prima di registrazione utile sia per inserire dei riferimenti musicali o per inserire un click ecco qui come potete vedere la registrazione inizia ora quest'opzione si rivela uno strumento molto utile utilizzata in combinazione con il metronomo e con il pre count vi farò vedere dopo le opzioni del metronomo subito dopo abbiamo l'auto punch l'auto punch è un'opzione estremamente utile che si trova nelle di aw in studio one è particolarmente semplice da usare grazie all'auto punch noi abbiamo la possibilità di attivare la recording mode impostandola attraverso i locatori per cui all'arrivo al locatore sinistro la recording mode sarà attivata automaticamente mentre all'arrivo al locatore destro sarà disattivata automaticamente impostando ad esempio il locatore sinistro sulla battuta 14 e inserendo la recording mode possiamo vedere che studio one non registrerà nulla fino all'arrivo alla battuta selezionata dal locatore sinistro questa modalità viene molto usata per continuare a registrare le porzioni di brano per correggere errori e avere la possibilità di entrare in un frammento precedente senza doverlo per forza sovra incidere subito dopo troviamo il metronomo il metronomo altre opzioni la prima a destra lo accende e lo spegne in fase di riproduzione mentre quella centrale apre il setup metronomico dove possiamo modificare il volume delle varie opzioni del metronomo attivare il pre count o il pre roll e decidere quante battute di pre count e pre roll impostare affinché il metronomo si possa muovere automaticamente una volta inserito il comando di registrazione lasciamo l'opzione su 1 dato che per il nostro tutorial è abbastanza comoda chiudiamo attivando l'opzione di pre count con la prima icona sinistra del menu di metronomo avremo la possibilità di avere una battuta metronomica a vuoto prima dell'inizio della modalità di registrazione andando a registrare noterete che nel pallino appaiono i numeri del pre count cosa importante da metabolizzare è che se non avete il metronomo attivo in riproduzione una volta finito il pre count non avrete più suoni metronomici a vostra disposizione vi mostro ora col metronomo attivato cosa succede detto questo il resto è abbastanza semplice abbiamo il tempo musicale cioè quattro quarti sei ottavi che impostabile semplicemente cliccando su uno dei valori ed aprendo un menu di selezione dal quale potremo appunto selezionare il valore a noi congeniale e poi un tempo inteso come velocità quindi bpm che potrà essere selezionato cliccandoci su e modificando il valore tramite tabellino numerico subito dopo troviamo il monitor di master volume che è molto utile per controllare appunto il volume di uscita sul canale master e per segnalarci eventuali picchi e clip con quest'ultima opzione abbiamo finito se vi piacciono i nostri tutorial vi invitiamo a mettere un like alla nostra pagina e a commentare condividere i nostri video potete inviarci dubbi commenti e curiosità tramite commento o tramite un messaggio privato direttamente sulla pagina grazie mille da marco chiavetta e dal jgr studio alla prossima